buongiorno a tutti oggi 21 gennaio siamo qui al majestic a via veneto numero 50 per il consueto appuntamento mensile del salotto della famiglia una famiglia moderna una famiglia oltre quella tradizionale dove persone condividono un progetto o di educazione nei confronti dei ragazzi o un progetto di solidarietà se trattasi di coppie senza figli il nostro appuntamento è per i tecnici cioè avvocati perché è un incontro accreditato presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di roma o anche un percorso di formazione per i praticanti o di aggiornamento per le persone comuni che intendono avere un rapporto diretto con gli avvocati fare le loro domande e approfondire le loro posizioni e trovare soluzioni nella loro vita privata oggi l'argomento è molto caldo perché parleremo delle unioni civili del decreto legge cirinna al vento il 28 gennaio al senato vedremo come se la caveranno i nostri politici se riusciranno a trovare la quadra e quindi approvare i due capi della legge se troveranno un accordo sulla step adoption oppure se limiteranno l'approvazione della legge alle coppie di fatto e quindi ai patti di convivenza e alle unioni civili per quanto riguarda i matrimoni gay vi aspetto per i successivi appuntamenti e vi ringrazio arrivederci